Bentornati in un nuovo video! Sempre dai miei sondaggi su Instagram ho capito che l'argomento piedi, scarpe, cura dei piedi vi prende tanto. Io ho già fatto diversi video, ogni volta che parlo faccio una recensione a una scarpa, cerco anche di parlare di come provare la scarpa giusta, come trovarla, la cura dei piedi in cammino, fuori dal cammino, eccetera. Questa volta vi ho chiesto, vi interessa sapere quali sono le scarpe che io nel tempo ho selezionato per tutti i giorni? Perché? È una domanda strana in effetti, che vi frega voi delle scarpe che uso io tutti i giorni? Stiamo parlando di trekking, di montagne, di cammini. In realtà mi è venuta questa proposta perché ho pensato che comunque non tutti camminano quotidianamente, tanti di noi hanno questa passione che si devono ritagliare nei momenti liberi e quindi ritengo indispensabile che i piedi, il nostro motore, vengano preservati anche nella vita di tutti i giorni. Quindi io, seppur sia una signorina, ho bandito dalla mia scarpiera le scarpe con il tacco a spillo, scarpe di cartone scomode, brutte, fatte male, cioè magari anche carine all'occhio, piacevole alla vista, però scomode e che quindi a lungo andare potrebbero far male ai miei piedini. Tutto questo è stato fatto nel tempo perché io ho sempre messo scarpe molto sbagliate e mi sono resa conto, provando magari forse le prime due paia di scarpe confortevoli, che vedevo una netta differenza anche nei miei percorsi a piedi. Quindi il fatto di portare tutti i giorni calzature corrette mi ha aiutato anche nella resistenza, se vogliamo, lungo i cammini più lunghi, più difficili, più intensi, ma anche nelle escursioni di tutti i giorni. Il fatto è che mi trovo veramente ad avere dei piedi nuovi, forse rinati, rispetto a quelli di prima. Quindi io adesso vi faccio semplicemente vedere le scarpe che ho, che mi sono comprata io nel tempo, magari alcune sono state anche delle collaborazioni passate, fatto sta che queste sono quelle che ho deciso di tenere nel mio armadio. E non dovete prendere queste scarpe, se volete io ve le lascio comunque in info box, però quello che mi preme dire con questo video è che dobbiamo guardare determinate caratteristiche per salvare i nostri piedini, ok? Vi porto nella mia scarpiera. Quando si dice che le donne amano borse e scarpe, ora mi sto rendendo conto che devo fare un po' di pulizia, però a mia difesa vi posso dire che le ho collezionate in veramente tantissimi anni e non butto mai niente. Iniziamo con un esempio di scarpa sbagliata, è inutile che vi dica il perché. Più che altro mi voglio soffermare, cioè queste sono molto comode, per carità molto molto femminili, ora se siete maschiette all'ascolto voglio sottolineare qual è la nota più dolente di questa scarpa, il materiale. Questa scarpa è pura 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 plastica e non ha senso di esistere nell'armadio di un camminatore, perché il piede soffoca, il piede ha una postura sbagliata e non è neanche una forma studiata per una corretta calzatura, una corretta posizione del piede, quindi va da sé che utilizzando scarpe di pessima qualità si compromette la postura, la camminata e anche si fa soffocare il piede. Quindi queste sono le prime da eliminare. Sono poi arrivati loro che come vedete stanno tirando le cuoia in tutti i sensi, le ho pagate una trentina di euro, sono in pelle e mi preme dire che preferisco la pelle alla plastica perché sono scarti alimentari, dalla serie non si butta via niente, mentre invece la plastica fa molti molti più danni all'ambiente. Purtroppo gli animali vengono uccisi e piuttosto che buttarne la pelle preferisco che vada a definire un prodotto del genere, piuttosto che... sono d'accordo comunque non è cruelty free una cosa del genere, anzi adesso vi dico che ci sono tutta una serie di nuovi materiali come riciclati dal mais, dalla barbabietola, che diventano come un'ecopelle, alla vista sembrano molto la pelle, anche al tatto, ma non hanno plastica e non hanno prodotti di origine animale al loro interno. Va da sé che questo è un acquisto che ho fatto e come vedete è stra 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 sfruttato, ce l'ho da veramente tantissimi anni e li ho pagati poco e li terrò finché campo perché mi hanno salvato la postura del piede. Sono veramente comodi, li ho utilizzati indistintamente per tre stagioni, quasi con tutto. Ecco, quindi un'altra cosa da guardare è che il modello che andate a scegliere deve stare bene con tantissime cose in modo da diventare versatile, sfruttabile e quindi non costringervi a prendere più scarpe nere così, fatte nello stesso modo da abbinare con diversi capi, no? Diventerebbe poco sostenibile, quindi una scelta ma fatta con cognizione di causa. Un altro acquisto ponderato fatto nel tempo sono gli classici scarponcini Timberland che non uso ovviamente per fare trekking, però mi piace una volta che provi le scarpe da trekking e ti senti bene, poi non torni più indietro, cioè io non mi sogno di mettere i tacchi a spillo e quindi ricerco il comfort delle calzature sportive anche nella vita di tutti i giorni. Adesso vi sto parlando delle scarpe invernali, io in estate vado di Birkenstock e basta praticamente. Fatto sta che se vedete la suola ricerco un po' lo stesso comfort della montagna e questi qua sono molto resistenti, mi accompagneranno per tutta la vita se io voglio, ecco, non avrò bisogno di sostituirli. Passando a qualcosa di più leggero, di questi trovate anche un codice sconto sotto il mio infobox perché ho collaborato per tanto tempo con Garmont. Queste sono delle Tikal, se non sbaglio, come si chiamano? Beh, io ve le lascio sotto. E le ho usate tantissimo in Giappone, cioè io in Giappone mi sono spostata con queste. Vanno benissimo nelle mezze stagioni, sono tra l'altro in Goretex e anche queste in pelle, hanno una bella suola in vibra e le ho utilizzate anche con delle calze pesanti in inverno. Comode, cioè quello che vado a cercare è la comodità. Loro fanno scarpe tecniche, quindi anche per le scarpe di tutti i giorni hanno usato la stessa tecnologia. Guardate i siti dei vostri marchi preferiti perché spesso si nascondono dentro delle perle sotto magari la categoria lifestyle, ecco. Restiamo su Garmont, andiamo via via a scalare per qualcosa di più leggero e abbiamo le Tikal estive che sono carine. Qui sotto hanno la suola in sughero, questa soletta in cotone, questa è pelle. Anche queste mi pare che siano, beh, comunque sono in tessuto naturale, non so se cotone, canapa. E qui sotto hanno la loro fantastica suola Michelin che mi piace anche più della Vibram, sinceramente. Le ho di due colori e io le metto anche così, cioè in un piede uno e in un piede l'altra. E sono comunque lo stesso principio di prima. Se voi avete comfort con un marchio di scarpe che usate in cammino e in montagna, guardate se hanno una soluzione per tutti i giorni. E poi veniamo a queste bellezze che sono di Bioline, made in Italy, molto carine, artigianali e sono una vera e propria chicca. Queste è come andare in giro con delle ciabattine, sono veramente adorabili e vi consiglio di guardare proprio il loro sito perché sono tutte belle le loro scarpe, sono fatte di qualità, cioè proprio sono studiate, sono fatte a mano, è un altro dire, ecco. Ora io vi ho fatto una brevissima panoramica e quello che mi preme dirvi è di guardare come è fatta la scarpa più che altro, che sia un materiale di qualità che duri nel tempo così non siete costretti a prenderne 500 paia ogni anno e che comunque appunto vi durino e vi diano veramente comfort. Ricordatevi che la regola di quando scegliete le scarpe da trekking è valida anche per quelle da tutti i giorni, ovvero al minimo fastidio durante la camminata si trasforma in un dolore lancinante, quindi state attenti a questo aspetto. Quindi anche ci sono tantissimi siti ormai di scarpe belle tipo vegan shoes, a me piace tantissimo perché fanno tutti questi materiali ricercati cruelty free e la scarpa che vi portate a casa è originale, è particolare, è di qualità e vi durerà nel tempo. Non mi conoscono, non sono pagata per dirvelo, è semplicemente ciò che mi piace informarmi ed è ciò che guardo io quando ho del tempo. Un'altra chicca che potete sfruttare sia in cammino sia dopo una lunga giornata sulle vostre scarpe di tutti i giorni è di prendere una pallina da tennis e di far scivolare sopra il piede per una decina di minuti, magari mentre guardate la tv, magari mentre parlate in rifugio con altri sotto il tavolo, fate scivolare il piedino sopra questa pallina che vi fa proprio un vero massaggio ed è un toccasana per i piedi. Questa è una cosa che mi piace tanto fare, tanto tanto, un automassaggio non indifferente. Bene, io vi farei vedere anche le mie scarpe da trekking ma non penso che ve ne freghi qualcosa, in caso contrario scrivetemelo. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, quindi c'è qui la sezione commenti e basta. Ci rivediamo domenica prossima con un altro video che non so ancora quale sarà ma ho tantissimi argomenti di cui vi voglio parlare, quindi ci vediamo domenica come al solito alle 14. Buoni passi a tutti, ciao! Ciao!